Il regista. Il regista. Ah, al mare. Va bene, poi me lo spiegheranno meglio. Insomma, comunque, con questo cagnolino, comunque veramente, insomma, curiosissimo, è molto vivace, non è tranquillo, è tutto apparente. Forse ne hanno dato qualche camomilla prima di venire. Mi hanno detto, ma è come i bambini, guarda, veramente, non vi preoccupate che non mi sono dimenticato di voi. Quindi vi ricordo, ecco, siamo sempre qua e volete parlare con noi, volete, ecco, pure con noi di loro, volete dire qualsiasi cosa. Poi, ecco, come abbiamo detto prima, qua abbiamo due single. Se qualcuno vuole, ecco, intervenire. Diciamo che sono quattro, sì. Ah, pure quattro, ecco. C'era un piacere. Quattro, quattro, abbiamo quattro, sì. Quindi abbiamo due ragazze, anzi tre, quindi ragazzi avete pure la scelta. Abbiamo, guarda, la Bruna. Sì, io sono single. Allora siamo cinque. Sì, però io non cerco ancora la leva gemella. Ok, va bene. Guarda, iniziamo così, guarda, il nuovo anno da single proprio. Eh, va bene. L'importante è che uno sia felice e che sia una bella cosa, no ragazzi? Sapete che loro due, sono due cantanti, hanno cantato benissimo, sono bravi. Quindi abbiamo i due cantanti e le ballerine. Però adesso riprendiamo subito perché qualcuno da casa ci ha sentiti. Pronto? Pronto. Pronto. Sì, sera. Come ti chiami e da dove chiami? Io mi chiamo Alfredo. Alfredo, da dove ci chiami? Chiamo da Siderlo. Ah, auguri di buon anno. Grazie, 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 grazie. Hai visto che questa sera abbiamo degli ospiti, abbiamo Alfredo, abbiamo Anna, abbiamo Stefania, abbiamo Alexis. Comprese il cagnolino per iniziare l'anno, perché pure gli animali, il cagnolino si chiama Kiko. Quindi pure per iniziare bene l'anno, pure gli animali. Ciao, ciao, è carino. Ciao, è carino. Eh, ci lo vedi tranquillo. Ciao. Vedi che gli hanno dato, vedi Alfredo, vedi che gli hanno dato la camomilla. Perché non è così, è proprio concentrata la camomilla, che non è così, ma tra poco vedrai come si scatenerà. Molto curioso, è un pincer nano, ed è curiosissimo. Allora, volevi dirci qualcosa? Eh, volevo una dedica per la mia ragazza. Ok, che cosa le vorresti dedicare alla tua ragazza? A te, quella di... Di giovanotte. Ah, bellissima. Allora, te la faremo... E me lo potete mandare subito, perché... Guarda, tu seguici, perché andiamo in diretta fino a tardanotte, quindi... Eh, ma io perché dormo, perché domani poi devo andare a lavorare. Eh, lo so, noi faremo il possibile. Anche, con uno sforzo. Eh, con uno sforzo, dato che lo stai dedicando alla tua ragazza. Io devo andare a fare un lavoro, perché faccio il fontaniere. Eh, ma... Che hai detto? Il fontaniere. Il fontaniere. Ah, ecco, no. Ah, non si era capito un'altra cosa. Scusa, c'è stato un momento che abbiamo capito male qua in studio. Io sono all'antica. Bella, è una bella cosa, fai, complimenti. Eh, un fontaniere, è buono come un lavoro. Sì, sì. Sì, sì, no, no, non ci siamo messi a ridere per il tuo lavoro. No, 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 ti avevamo capito male. Il fontaniere che fa un premurato, che fa... Sì, infatti... Ogni lavoro, un premurato. Eh, tanto il lavoro è una cosa sempre buona. Comunque il video, guarda, ce l'abbiamo e te lo mandiamo subito, ok? Grazie tanti. E complimenti per la scelta della dedica. E vedete quella di una ragazza perché è innamorata la di me. Oh, sono contentissimo. Avete iniziato bene l'anno. Grazie, buon anno. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ecco, se possiamo... Mandiamo subito questo video che è stato richiesto di giovanotti a te. Eccolo che lo vediamo. E ritorniamo subito qua, Dott. Sì, ciao. No, ancora, tra poco, insomma. Il video comunque è pronto, sta uscendo dal forno. È caldo, caldo. È caldo, caldo, questo fresco. È caldo, fresco, fresco. E quindi so che è una musica, una canzone che piace a molti. E infatti le dedico pure a quelle persone che ci avevano chiamato in precedenza, che lo volevano vedere questo video musicale. E lo dedichiamo anche a loro, vero? Eccolo, eccolo che arriva. Eccolo qua. A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione, per arrivare fino in fondo, ad ogni mio respiro, quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Ti mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo saldo ci fa volare dentro all'aria, come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei. Sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore, il mio amore grande. A te che hai preso la mia vita, ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo. A te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po'. E poi ti ho visto con la forza di un aeroplano, prendere in mano la tua vita e trascinarla in salto. A te che mi hai insegnato i sogni e l'arte dell'avventura. A te che credi nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa. A te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei semplicemente sei sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei. A te che sei essenzialmente sei sostanza dei giorni miei. A te che non ti piaci mai e sei una meraviglia. Le forze della natura si concentrano in te. Che sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano. Sei l'orizzonte che mi accoglie quando mi allontano. A te che sei l'unica amica che io posso avere. L'unico amore che vorrei se io non ti avessi con me. A te che hai reso la mia vita bella d'amorena. Che riesci a renderla fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande. A te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo. A te che sei l'amore grande ed il mio grande amore. A te che sei semplicemente sei sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei. E a te che sei semplicemente sei compagno dei giorni miei, sostanza dei sogni miei. Eccoci di nuovo qua in diretta su Telespazio TV. Infatti abbiamo fatto accomodare le due ballerine. E mi sono accomodato pure io che sono Alexis e Stefania. Ciao di nuovo. E sono venuta a trovare con il suo cagnolino. Infatti se lo vedete da casa, ma sicuramente l'avete già visto, lo vedremo più avanti il cagnolino. Allora ragazze, vi vedo vestite molto eleganti. Vabbè dai, non vi suggeriamo insomma. Ah, questa sera che cosa farete di bello? Dopo aver finito il jukebox qua. E appunto, cioè allora più grande cosa, io sono venuta qui perché il mio mo' di notizia insieme. Voglio far compagni anch'io, sempre a tutti gli amici di casa che ci stanno seguendo. Infatti ne approfitto, guarda, per salutare il mio grandissimo amico di infanzia. Che voglio veramente tanto bene. Ciao Fulvio, ti ho promesso eh. Un bacione grande. Un saluto anche da parte mia Fulvio eh. Ciao. Che saluto, infatti stanno arrivando. Tranquillissimamente a tutti quelli che ci seguono. Sia tramite Skype. Sia è vero, è vero, è vero, è vero Justin, sai, mi hanno detto che stasera ci seguiranno parecchi i nostri amici di Skype. Sia tramite Skype.